Ciao amici Nerazzurri, bentrovati ad un nuovo appuntamento con il TG Flash Inter News. Vigilia di Genoa Inter, gara valida per la diciottesima giornata di Serie A, nonché ultimo impegno dell'anno per i Nerazzurri di Simone Inzaghi. Il tecnico piacentino ritrova Frattesi, che ha recuperato dall'influenza ed è pronto a partire per Genova. Buone notizie anche per De Vrai, che oggi torna ad allenarsi in gruppo e sarà della lista dei convocati. Ancora attesa invece per Denzel Dunfris. Per la sfida contro i Liguri, Inzaghi schiererà probabilmente la stessa formazione vista a San Siro contro il Lecce, con una sola novità. Nel reparto difensivo, Pavard, recuperato appieno dall'infortunio, partirà dal primo minuto al posto di Bissec, davanti a Sommer, insieme ad Acerbi e Bastoni. Per il resto, in mancanza dei due titolari, Dunfris e Di Marco, sulle fasce ancora Darmian a destra e Carlos Agusta a sinistra, con Barella, Cialanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. In attacco, Turam e Arnautovic, con quest'ultimo alla ricerca del primo gol in Nerazzurro. Sul fronte mercato, si continua ad accelerare per Buchanan, l'esterno canadese scelto dalla dirigenza Nerazzurra per sostituire Quadrado. La distanza tra richieste offerta sembra essersi ridotta a circa 2 milioni di euro e l'accordo potrebbe arrivare a metà strada tra i 10 milioni richiesti dal Bruges e i 6 offerti dall'Inter. Per tutte le altre novità sul mercato, ma non solo, vi aspettiamo in live a partire dalle ore 18, eccezionalmente con InterNOS, insieme a Gianluca Rossi, sui nostri canali YouTube, Facebook e Twitch. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche. A dopo! Segui internews.it per restare sempre aggiornato 24 ore su 24, 7 giorni su 7, su tutto ciò che riguarda la tua squadra del cuore. Se sei interista, non puoi non aver già scaricato gratuitamente e recensito l'app Android o iOS per avere sempre a portata di mano le ultime notizie sull'Inter. Ci trovi anche su Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e Telegram. Se sei in cerca di approfondimenti ed esclusive a tinte nero-azzurre, internews.it è quello che fa per te. Grazie a tutti!